I carabinieri della sezione radiomobile e della stazione di Ragusa-Ibla hanno tratto in arresto in flagranza di reato un trentenne e un ventottenne, entrambi ragusani, per furto aggravato in concorso. La vicenda trae origine dalla segnalazione al 112 da parte di un residente che aveva notato che uno degli infissi del convento di Santa Maria del Gesù, attualmente sottoposto a lavori di restauro, era stranamente aperto. I carabinieri sono quindi intervenuti prontamente, constatando che uno degli infissi della parte superiore del convento era stato forzato. Ispezionando il cantiere, gli uomini dell'arma hanno notato la presenza di due persone intente a nascondersi alla vista degli operanti dietro due colonne. I due, immediatamente fermati, avevano con loro una borsa in plastica rigida contenente arnesi da scasso, cavi e tubature in rame. In effetti, dalla struttura erano state tagliate diverse tubature e condutture in rame, danneggiando le infrastrutture del convento e provocando danni per oltre 15 mila euro. Per queste motivazioni, i due ragusani sono stati arrestati dai carabinieri per il reato di furto aggravato in concorso e collocati ai domiciliari, così come disposto dall'autorità giudiziaria.